ciao a tutti ragazzi oggi abbiamo 10 palline di living sisters weight 2 e partiamo subito perché sennò questo video durerà un'eternità infinita sì perché per la prima volta del nostro canale ne apriremo ben 10 tutte in un solo video mi vediamo che troviamo a immaginate ragazzi ma le ha scelte macco come al solito per me è una doppia questa di questo club ne ho solo una no due mi sa oh mamma speriamo oh mamma c'ho paura i fratelli bandiera c'entra allora vediamo prima no sì però volevo vedere qua ecco tipo di questo club mi mancherebbe lei quindi roscia no è doppia uffa niente da fare uffa partiamo male partiamo molto male non è andata bene la prima speriamo per le altre andiamo andiamo avanti allora andiamo avanti andiamo avanti oddio oh mamma oh mamma oddio no mi manca allora di questo club ragazzi mi mancherebbe la lilfo funky cuttì potrebbe essere anche una ola eh non ho una mia io sono ovviamente questa ola è gialla questa volta potrebbe anche essere quella che ti manca una me ne manca lì quindi non lo so probabile che l'altra è una me ne manca lì quindi non si può trovare in teoria io sono a paura allora qua c'è le doppie le doppie la stessa reazione di alessandro che batte i piedi per che non ottiene quello che vuole e vabbè ma cavoli ma tutte doppie quella brutta fra l'altro range niente fuori due numero 3 cioè ragazzi su 10 possibile tutte le doppie oh santo dio nooo tu l'hai detto che ci poteva stare l'oro ed ecco l'ha aggiunto puntualmente arrivato cioè veramente ma se può vabbè cioè ma su 10 una non doppia vediamo vediamo allora cioè calcolate che queste andranno tutte in vendita eh l'oro via tanto l'anellino fa già il suo reparto ecco ultra rara tra l'altro una una che non ho una che me ne mancano poche però beh no l'anellino ormai non lo apro lo apro dopo anche ormai eccoci qua vamos avanti numero 4 aspettate che sennò si capisce quarto giro quarta doppia indizio oddio dai ma che cavolo certamente non sta girando nel modo giusto queste serie di aperture eh direi proprio di no cioè scommettate tutte e 10 doppie ragazzi cioè ma scherziamo pareti un epic fail di quelli mosciosi cioè veramente un fallimento totale sarebbe cioè ragazzi ma entreresti nella storia per tutte tutte le cose allora aspettate che non si capisce niente queste le tutte oh mamma chi è oh finalmente una che non ho finalmente una che non ho oh e quindi speravo più e quindi se ne mancano 5 penso che sia una che non ho non l'ho mai vista vediamo forse stavolta ci siamo evviva anche la lol di questa e vai ok abbiamo per un momento almeno per questa raddrezzato la rotta della nave prima che si schianti sullo scoglio di ghiaccio come il titanic esatto andiamo avanti almeno cavoli cioè non è possibile no fermo oddio sleeping allora aspetta oh mamma che botta qui me ne mancherebbero cioè nel senso non ne ho due di questo club quindi è buono in teoria la pole è rosa vediamo vediamo speriamo che mi esca quella che ho la lol almeno fa ricoppia chiedi un po' troppo e lo so no cavolo dopo tutte ste doppie oh oddio ste bustine ragazzi si aprono vado spedita perchè sennò veramente questo video fra 4 anni e mezzo no ma sto durando poco eh perchè sto andando parecchio veloce sicuramente non doppia doppia cappellino di natale cappellino di natale doppia ok ragazzi ma la sfiga ma la sfiga ma la sfiga ma ne vogliamo parlare? vamos avanti c'è finora soltanto una che non ho eh numero 6 indizio oddio ma che cavolo ma è tutto indizio diverso questa volta è l'ho capito è ancora l'orologio in seguirci e non è il big bang di londra quindi questa è un'altra doppia perchè queste le ho tutte si cioè veramente ok cioè questo club questo quello di teatro quello lì non mi è uscito mai no mi è uscito forse due volte e ho trovato tra l'altro lo stesso due volte cioè ma scherziamo ragazzi ma la sfiga uffi ah si la maggior parte andremo in vendita eh sono tutte a parte una farò un bel lotto ragazzi oddio ancora te capito che ti volevo troppo però è unicorno? si ancora ci sono tre ci sono tre questo è molto a vita cercano in parecchi quello lì l'unicorno eccola lei ancora con una lottina c'è ragazzi sono sommersa da lil apertura numero sette oh questo è un indice che ho trovato due volte speriamo che mi esca gogo girl speriamo io spererei in gogo boy così che cacchio vuol dire? vuol dire speriamo che sia lei speriamo che sia lei speriamo che sia lei speriamo che sia lei è lui non è lui? questa bolse apre non male di più allora vediamo 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 allora qui c'è il melino io ti prego No, io mi sparo, ma che davvero? Io mi sparo, mi sparo, io mi sparo, mannaggia! Inizio da fare anche questa volta. Non è possibile, c'è finora una sola non doppia. Scusate, ne mancano cinque, tra tutte quelle, la probabilità di trovarne lo spie è molto alta. Ragazzi, terza e ultima, sperate. Dai, ancora lo roggio. Ancora te! Ancora la bandiera. Lasciami, seria! Certo che Marco per le lille, ragazzi, proprio non c'è azzecca manco per niente, eh! Quante le pelle manchino poche? Eh, ho capito! Cioè, di quelle poche solo una. No, non è facile. Allora, cioè sono sommesse, ragazzi, da lille che non potete capire. Sì. Allora, speriamo sia quell'altra. Ti prego! Altre disperazione? Sì. Non ce l'ho già. Basta! Non ne va bene una. Cioè, basta, veramente! Basta! Non ne va bene una. Una sola non è andata bene. Eh, ragazzi. Avanti. La numero 9. La penultima. Tante tutte doppie sono alla fine. L'indizio. Eh? No, questo non ce l'ho! Oddio! Quel Crab Flower Child ce l'ho! Se è Show Baby non ce l'ho! 50%, gioco al milionario che vedrai che esce quella che non hai. Eh, che è il milionario. Mamma mia! Cioè, questo video uscirà un epic fail di quelli potenti. Oh! Beh dai! Ehi! Allora. Tra l'altro mi sono fatta male. Ehm. Qua. Questo l'anellino. E in avanti. Qua! Qualcosa di minuscolo. Madonna! oh che bello non ce l'ho sollievo per Chiara adesso ne mancano quattro intanto non ne finirò mai tutte doppie show baby che non avevo l'ultima ragazzi l'ultima lille cioè ragazzi guardate sono sommersata lì aspettate che se no faccio un casino e mezzo aspettate ok avanti l'ultima numero 10 chiudiamo in bellezza se mi esce di nuovo quella col cappello bianco mi sparo cioè veramente ma perché io non ce l'hai di queste una me ne mancano due me ne mancano cioè me ne mancano in teoria non dovrebbe essere lei ma si sa nei supermercati cioè alla fine le abbiamo trovate tutte diverse a parte che vabbè che le ho però dico in teoria dovrebbe essere diverso in pratica aspettiamoci tutta la vita oddio mamma mia come si aprono male mamma mia c'è ragazzi ma do cioè non ci riesco ah c'è credi che non riesco ho fatto ma come guarda mica ma aiuta ragazzi questa qua si è aperta non male di più basta dai apri fermo oh basta andiamo a vedere c'è la solita di reaction in box oppure no bellino e adesso scopriamo il gran finale se mi va bene o male pallino numero 2 nooo non ce l'ho ma non mi piace questa però non ce l'hai no vabbè quella brutta vabbè non ce l'hai però no quindi ancora una volta confermiamo che i box sono comunque tutti quelli diverse ok mamma mia che male ho fatto male prima ok eccola qua l'ultima e questa è? la decima come si chiama? allora ragazzi allora lei è Lil Sleeping Bones praticamente le cambiamo nei capelli le veniva un fiocchettino qui un cuoricino ed è dietro tipo un bacino lei diventava tutta rosa purtroppo col forte caldo si sta praticamente stanno praticamente tornando normali eccola qua mentre lei lì si coronavano praticamente i capelli tutti di rosa e qui dietro gli veniva un fiocchetto mentre le altre le avevate già viste nelle aperture quindi ragazzi è inutile farvele rivedere questo è quanto noi terminiamo qui questi 10 unboxing vi diciamo di iscrivervi al canale se volete mettere like se vi è piaciuto il video per farci capire che video vi è piaciuto commentate ovviamente per dire la vostra su un generale e seguiteci su instagram bye bye alla prossima ciao 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 ciao